Giovedì 27 giugno, buongiorno e ben ritrovati per la nostra rassegna stampa, il nostro consueto appuntamento del mattino, il nostro giro delle prime pagine per scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, quali sono i temi caldi di oggi e come sempre lo faremo attraverso le anticipazioni, vedendo quali sono i titoli in primissimo piano. Cominciamo subito, lo facciamo partendo dal quotidiano La Sicilia, tra le altre cose si parla anche dell'emergenza rifiuti, una tregua a tempo, titola La Sicilia, riaperta da ieri la discarica di Lentini, una soluzione ponte con nodi aperti, ma aiuta il lento ritorno alla normalità. Nomine europee, Lira di Giorgia Meloni, attacco a testa bassa, bis di Ursula von der Leyen, Premier tentata dal no o dalla stensione, le opposizioni così isolate l'Italia. Staffetta in Forza Italia alla regione, Tamayo lascia per Chinnici, Schifani lo blinda in giunta, ma alle attività produttive. Cronaca, tragedia a Mascali nel Catanese, non sei un buon padre e viene accoltellato a morte. Nuove rivelazioni invece del killer Avola, romanzo criminale, Ercolano uccise a Roma il boss della Magliana. In taglio laterale si parla di infrastrutture, Salvini promette non solo il ponte, anche 899 milioni per opere idriche. Termini merese, ex Blutec avviato il passaggio a Pelligra che dà speranza a tutti gli addetti. E poi Sicilia, la blu economy vale 10 miliardi, 5 proposte a Musumeci e Schifani. In taglio alto si parla anche di spettacolo, i palinsesti autunnali Rai, Fiorello lascia Viva Rai 2 e pensa a un nuovo show, però in questo caso uno show notturno. Giro delle città partendo da Catania, Aula indisciplinata, il consiglio viene sospeso, Adrano, sempre nella Catanese, piantagione di droga, arrestati due giovani, transumanza abusiva, denunciati 5 allevatori a Randazzo e poi a Giardini Naxos, sindaco incompatibile, slitta ancora l'appello. Lasciamo il quotidiano La Sicilia, restiamo ovviamente nell'isola, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione odierna del giornale di Sicilia che invece apre con questo preciso argomento un salvagente da 200 milioni precari, ex PIP, AST, rifiuti all'estero, agricoltori, allevatori, sì alla manovra della regione. Il voto dell'Ars sblocca i fondi per i comparti in crisi a luglio di nuovo in aula e già si prepara la battaglia per le regalie dei deputati. Eurocamera, Tamayo rinuncia al seggio, subentra la Chinnici e poi emergenza rifiuti, riaperto l'impianto di Lentini, emergenza in via di soluzione con l'ordinanza bis. Questa invece è una bella iniziativa, si parla di turismo, biglietto unico per il Museo Salinas, i parchi di Agrigento, Segesta e Selinunte. E poi ampio spazio a un'altra emergenza, l'emergenza siccità, vedete siccità e cambiamento climatico, il lago di Pergusa non c'è più. Il docente della Core Gabriele Freni può sopravvivere, il lago ovviamente solo con le piogge e vedete in questa foto il lago appunto di Pergusa ridotto a una pozzanghera, vedete una foto che certamente non ha bisogno di ulteriori commenti. La cronaca favorì il Superboss Martina Gentile, va subito al processo, l'inchiesta prosegue, l'inchiesta sulla latitanza del Superboss Matteo Messina Denaro. False vaccinazioni a pagamento, quattro condanne a Palermo, il caso durante la pandemia da Covid e poi la tragedia sulla Palermo Sciacca, Miriam indagata per la morte del figlio nell'incidente. Altre notizie in prima pagina sul giornale di Sicilia, Meloni all'attacco, no agli inciuci con la sinistra, sia in Italia che in Europa. E poi dati Istat, pil pro capite del nord-ovest quasi il doppio rispetto al sud. Maxi sconto a chi assume a tempo indeterminato, maggiorazione del 120%. Andiamo in taglio alto, spazio al calcio, il Palermo presenta al nuovo allenatore Dionisi. Per me un onore allenare qui, convinceremo la piazza con i risultati, ha dichiarato il nuovo allenatore. E poi Shock a Mascali, pregiudicato, litiga con un amico per insulti alla figlia e lo uccide a colpi di forbici. L'assassino è stato arrestato dai carabinieri. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina la Gazzetta del Sud. Si parla anche tra le altre cose di cronaca della recente operazione antidroga nel Messinese da Giostra, i fiumi di droga, in retroscena della maxi operazione di DDA e carabinieri, il ruolo delle donne del clan. A Barcellona si trattavano partite di hashish, pensate un po' anche di 250 chili. L'ira di Giorgia Meloni sull'Unione Europea, nomine estrane al voto dei cittadini, attacco all'asse popolari, socialisti, liberali. Clamorosa astensione da parte della Premier, parla il Presidente Mattarella. Dall'Italia, dice il Capo dello Stato, non si può prescindere. Restiamo sulla Gazzetta del Sud. Discarica a Mazzara, un disastro annunciato. Vedete l'incendio in questa discarica nel vecchio impianto, un incendio che non è stato ancora domato dopo tante ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco. Mosca invece nuove minacce agli Stati Uniti. Con le armi all'Ucraina c'è il serio rischio di un'escalation del conflitto. Alla centrale di Zaporizia, bombe di Kiev sulla stazione di controllo delle radiazioni. Lasciamo anche la Gazzetta del Sud. Restiamo ancora in Sicilia con la prima pagina dell'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica. Questa è una delle notizie, uno degli argomenti in primo piano. Viaggio nel cuore della Sicilia dove la sete uccide il bestiame. Chiaramente si parla della crisi idrica, dell'emergenza siccità che sta colpendo ormai da troppi mesi la nostra isola. Reportage nel Nisseno. La siccità sta mettendo in girocchio agricoltura e zootecnica, gli allevatori disperati. Senza acqua e fieno dobbiamo abbattere gli animali e il lago di Pergusa non c'è più. Da un'emergenza all'altra, dall'emergenza idrica all'emergenza droga. Se ci ascoltate possiamo rialzarci voci e storie della città dolente. Le parole di Leo Luca Orlando. Avete visto, non ero finito e mi votano anche i giovani, dice appunto Orlando. Il calcio con il nuovo Palermo che nasce sotto la guida di Dionisi che si presenta ai tifosi rosa-nero, Brunori e Segre resteranno a Palermo, ha assicurato lo stesso Dionisi. E poi la caso SOS cambiate via, la chat Telegram contro i posti di blocco. Esiste anche questo su Telegram, una chat dove poter segnalare l'eventuale presenza di posti di blocco da parte delle forze dell'ordine. Lasciamo Repubblica a Palermo, restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. Si parla del Consiglio europeo Meloni ci allontana dall'Europa. Titola Repubblica, la premier furiosa perché politicamente irrilevante nella partita per le nomine chiave di Commissione e Parlamento reagisce aggredendo l'Unione europea. Un gigante burocratico e ideologico dove prevalgono logiche di caminetto che offendono chi ha votato. Queste le parole di Giorgia Meloni, un vero e proprio sfogo da parte della premier. Le parole invece di Mattarella non si può prescindere da Roma. Intanto inchiesta di fanpage su gioventù nazionale, svastiche e offese antisemite in chat. Ma si parla anche di clima, un clima letteralmente impazzito, siccità e nubi fragi, il paese dei due laghi. Guardate questa immagine in alto, il lago di Garda a livello record per le tante piogge cadute in questo periodo, sotto invece il lago di Pergusa ridotto praticamente a una pozza. Dunque al nord nubi fragi e continue piogge, al sud invece si boccheggia con, come detto prima, l'emergenza siccità, una crisi idrica davvero forse senza precedenti. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Questa è la prima pagina della Corriere della Sera che apre con una vera e propria battaglia sulle nomine europee. Oggi il Consiglio europeo, Meloni ignorano l'esito del voto, si rischia l'isolamento. Dicono invece le opposizioni, Mattarella non si può escludere l'Italia, autonomia, il Colle, firma la legge. Dalla Corriere della Sera alla prima pagina del quotidiano La Stampa, anche qui vedete l'Europa in primo piano, in questo caso le parole della Presidente Mattarella, l'Europa non prescinda dall'Italia. L'appello appunto del Capo dello Stato, mentre Tagliani a Meloni vota, Ursula Elislein a Bruxelles siamo isolati. Oggi il Consiglio europeo, la Premier mai inciugi con la sinistra, ma l'alleato cieco si schiera con Ursula von der Leyen. Questa dunque una delle notizie principali, uno degli argomenti principali di questa giornata appunto, ovvero le nomine europee. Proseguiamo intanto con la nostra rassegna, ci spostiamo sulla prima pagina del giornale, anche qui si parla di nomine europee e anche qui vedete si parla di una battaglia d'Europa. Meloni boccia l'intesa dell'Unione Europea, Mattarella non si prescinda dall'Italia. Guardate invece ai campi flegrei cosa è successo, esercitazioni al tisisma, si presentano però soltanto in nove. Sapete che nell'ultimo periodo ai campi flegrei si sono registrate tantissime scosse di terremoto, ma a questa esercitazione organizzata si sono presentati davvero in pochi, nonostante la paura di quanto avvenuto in questo periodo. Siamo sul Fatto Quotidiano, Meloni e Schlein costrette a ingoiare il rospo Ursula, ma che bipolarismo, Premier esclusa dai giochi e la leader del PD in imbarazzo. Duro attacco all'Unione Europea, Giorgia ancora incerta, fra sì e astensione, Dem forzati invece a votare con Fratelli d'Italia. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, anche qui si parla delle nomine europee con Meloni che sferza l'Europa, no ai caminetti e il colle non si prescinde dall'Italia. La partita delle nomine si tratta per un vice con delega, ma deve essere, vedete, una delega di peso. Vedremo insomma come andrà a finire, quale sarà l'esito di queste trattative o meglio di questa battaglia, così è stata definita da parecchi quotidiani. Pignorate i conti di Ilaria Salis, l'Onorevole Morosa, siamo sulla prima pagina del quotidiano libero, mozione approvata, la Lombardia avvia l'iter legale per riscuotere i 90 mila euro dovuti per la casa occupata, intanto lei, ovvero Ilaria Salis, debutta in Europa. Giorgia invece alza la posta sull'Unione Europea e accusa il PD, intesa sull'Ursula Bis senza Italia, il colle si schiera con la Premier, sulle nomine la sinistra ha chiesto di non trattare con me. Questa l'accusa, vedete, lanciata dalla Premier Giorgia Meloni alle opposizioni, in questo caso al Partito Democratico. Parliamo adesso di sport, andiamo a vedere anche questa mattina le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, si parla di nazionale ma si parla anche di calciomercato. Siamo dalla parte giusta, titola la Gazzetta a proposito degli europei e della nazionale di Spalletti. L'Italia infatti evita nella sua parte di tabellone quasi tutte le big. Sabato la Svizzera, i dubbi di Spalletti, storica Georgia intanto che batte il Portogallo di Cristiano Ronaldo e va avanti nel torneo. Dicevamo calciomercato, il Milan con Lukaku che apre ai rossoneri, Milan ci sono, titola la Gazzetta, il primo sì di Romelu, il Chelsea lo vende per 30 milioni di euro, sfida in vista col Napoli, anche il Napoli è interessato all'ex attaccante tra le altre di Roma e Inter, Lukaku. Lasciamo la Gazzetta, ci spostiamo sul Corriere dello Sport che dedica ampio spazio ad Antonio Conte, decido io, Antonio è tornato e a Palazzo Reale si è preso subito il Napoli. Di Lorenzo e Kvarascheli arrestano qui, ha assicurato lo stesso Conte, Lukaku è forte come Osimen, Ibra, i manager danno fastidio. De Laurenti si invece punge il Paris Saint-Germain e vole in Germania da Kvarascheli a che batte il Portogallo di CR7 e come detto si qualifica al prossimo turno. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, anche qui le parole di Conte, vedete in primo piano, qui comando io, Napoli in delirio, Conte mette subito le cose in chiaro con De Laurentiis. Al Presidente ho chiesto prima di tutto una rassicurazione, pieni poteri decisionali su chi va e su chi resta. La replica di De Laurentiis mi metto da parte, ora tocca a te, tocca ovviamente a Conte e poi la calcio mercato della Juve a Tiago piace, Reteghi l'attaccante del Genoa e della Nazionale torna nei radar della Juve potrebbe essere lui il vice Vlaovic. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna, partiamo però a breve con tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per aggiornarvi lungo questo giovedì. L'informazione non si ferma dunque sui nostri canali e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a più tardi.